Mezzi vettusti, ritardi e cancellazione delle corse, specie quelle matutine, con ripercussioni pesanti sugli studenti pendolari. Il caso Caos Trasporti nel Muorese oggi è stato al centro di un incontro in prefettura, che ha visto da una parte i sindaci del Muorese, che lamentano una situazione di criticità consolidata nel territorio, per quanto riguarda i collegamenti dell'Arst, e dall'altra l'assessore regionale dei trasporti Antonio Moro, il direttore generale dell'Arst, Carlo Poledrini, mentre alla cabina di regia c'era il prefetto Giancarlo Dionisi. Dottor Poledrini, una battuta veloce su questo incontro? No, è andato molto bene, il prefetto ha rappresentato le problematiche che erano state poste da parte dei sindaci, alcuni sindaci del territorio, alle quali problematiche ha dato compiuta risposta l'assessore regionale dei trasporti, assicurando innanzitutto tutto l'impegno possibile già stato messo in atto in questi mesi per il rinnovo del parco autobus, ma anche per il futuro, di riprendere tutto il tema dei trasporti del territorio e di considerarlo sotto un'unica visione di sistema, che consideri anche altre problematiche legate al coordinamento, ad esempio al coordinamento con gli istituti scolastici, al coordinamento con i proprietari delle strade per consentire proprio di creare le condizioni per un trasporto più sicuro e più ordinato. E nell'immediato cosa si potrà fare? Nell'immediato già il giorno 16 del corrente mese verranno presentati a Nuoro 20 nuovi autobus che verranno messi in servizio nel territorio immediatamente, quindi misure e risposte immediate a problemi che anche noi riteniamo debbano essere superati nel più breve tempo possibile. Signor Prefetto, l'incontro di oggi com'è andato? E' andato molto bene, ho chiesto all'assessore regionale Moro risposte certe, concrete, con una tempistica precisa, perché sappiamo che gli autobus sono stati comprati, gli autobus che servono a rinnovare il parco dei mezzi e quindi a migliorare quelli che sono i servizi per il territorio. L'assessore ha garantito che giovedì metterà in funzione 20 nuovi mezzi e dentro maggio il 50% dei mezzi circolanti, i mezzi di pulma di linea circolanti nella provincia di Nuoro, il 50% verrà completamente rinnovato. Che difficoltà hanno riscontrato i sindaci per cui lei ha dovuto convocare questo vertice? I sindaci si lamentavano e io ho visto che non c'erano delle risposte da parte della regione puntuali e precise, quindi ho preferito convocare questo tavolo, in assoluta serenità, devo dire, non c'è stata polemica, proprio per avere dei riscontri, come dicevo prima, certi, anche e soprattutto sulla tempistica di emissione di questi nuovi mezzi.